Nonostante fosse domiciliare, andava a passeggio per le vie cittadine, individuato dai carabinieri di Gela e stato arrestato con l'accusa di evasione. Protagonista è il giolese Fabrizio D'Aleo, 21 anni, pregiudicato. Ad intercertarlo sono stati i militari dell'arma durante un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati. Alla vista dei carabinieri D'Aleo ha tentato di allontanarsi ma è stato prontamente fermato. Una immediata perquisizione personale ha consentito di rinvenire occultata in una tasca della sostanza stupefacente. Si tratta di un grammo e mezzo circa di hashish. I militari della sezione radio mobile hanno inoltre eseguito una perquisizione domiciliare e a casa il ragazzo deteneva un altro grammo e mezzo dell'identica sostanza stupefacente. Per questi motivi D'Aleo è stato deferito anche per possesso di droga. E a Riesi, un 23enne, è stato arrestato con l'accusa di furto in abitazione. Lui è Giuseppe Innaco. I carabinieri sono stati allertati dalla chiamata di un cittadino al numero di emergenza 112 che segnalava la presenza di un soggetto che era intento a fuggire sui tetti dei palazzi della centralissima Via della Pace. Giunti sul posto e dopo essere saliti sui tetti delle case, i militari hanno fermato il ragazzo che poco prima aveva asportato alcuni monili in oro e denaro da un'abitazione privata. I carabinieri hanno avuto serie difficoltà per sottrarre il giovane arrestato dalle ire dei residenti della zona vittime di furti a catena negli ultimi giorni. Il valore dell'area furtiva ammonta oltre 1000 euro. Giuseppe Innaco è stato trovato in possesso anche di una cartuccia caribro 22 illegalmente detenuta.